Non sprecare i fondi pubblici, ma anche fare in modo che una volta che i fondi saranno finiti, i cittadini aquilani, ancora non rientrati nelle loro case presisma, si ritrovino con un tetto sulla testa. Queste le finalità che sta percorrendo l'assessorato all'assistenza alla popolazione del Comune dell'Aquila, che con la delibera 63 dello scorso 25 febbraio, ha un'ulteriore razionalizzazione del contributo di autonoma sistemazione. Agli affittuari che percepiscono il CAS, infatti, verrà proposto, anche rispettando le loro necessità, un alloggio in un progetto case o un MAP, qualora dovessero rifiutarlo, il CAS cesserà, ma se dovessero ripensarci, si potrà di nuovo accedere all'assegnazione di un alloggio, una maniera per equiparare gli affittuari che percepiscono il contributo a coloro che sono ospitati con le altre forme di assistenza, ovvero case, MAP, affitti concordati e fondi immobiliari. Questa delibera è un ulteriore passo, appunto come la ricordava, verso la razionalizzazione del CAS, che è chiaramente basato su fondi pubblici e quindi vanno maneggiati con cura e in maniera parsimoniosa. La delibera nella fattispecie prevede che adesso, nell'assegnazione di alloggi del progetto case e MAP, daremo la priorità a coloro che sono in affitto e percepiscono questa forma, cioè il CAS stesso. Perché facciamo questo? Perché già gli affittuari che beneficiano di case, MAP, fondo immobiliare, affitto concordato, pagano dal dicembre del 2011 un canone di compartecipazione. Quindi in qualche modo va equiparato lo status degli affittuari in queste ultime forme assistenziali allo status degli affittuari che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione. Quindi procederemo, come prevedono ordinanze direttive, sempre in un quadro di onerosità del contributo, quindi a partire dai contributi più alti e via via scendere, chiamando le famiglie, offrendo un progetto case o un MAP e in caso di rifiuto verrà cessato il contributo di autonoma sistemazione e ogni altra forma assistenziale. Chi accetterà potrà quindi passare in progetto case e MAP, fermo restando, che nel primo caso, cioè delle famiglie che opporranno alla nostra offerta un rifiuto, il rifiuto non è per sempre perché i diritti si possono in questo senso sospendere per un periodo ma non si possono annullare e quindi anche se fra qualche mese ci dovessero ripensare queste famiglie avranno comunque un'assegnazione di un progetto case e dei MAP chiaramente previa verifica dei requisiti. È un ulteriore passo, dicevo, in premessa perché già stiamo procedendo da tempo. Se pensate che nel momento del passaggio dell'assistenza alla popolazione dalla struttura commissariale a noi il contributo erogato mensilmente era di oltre 3 milioni, oggi a distanza di due anni quel contributo che eroghiamo di cas mensile è di 1.257.000. Quindi c'è stato un abbattimento del capito.